Viaggio in Europa rimandato. La morte di Margaret Thatcher ha rivoluzionato l'agenda del premier britannico. David Cameron ha lasciato Madrid, dove era appena arrivato per un colloquio sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea. L'omologo spagnolo ha così commentato la notizia della scomparsa della Lady di Ferro. Rendo onore alla memoria di Margaret Thatcher e voglio unirmi al dolore di tutti i cittadini britannici. Margaret Thatcher è tra i leader politici più importanti degli ultimi vent'anni. Ha governato in un momento di grande difficoltà con determinazione, coraggio, saggezza e capacità di interpretare il futuro. Questo la rende una delle personalità più importanti nella storia recente del nostro continente. David Cameron è rientrato immediatamente a Londra e era teso in giornata a Berlino e Parigi.